E bella sui ragazzi e ragazzi e benvenuti in questa nuova live ragazzi In questa live come vedete il titolo farò gli scherzi con dei miei amici Basta che li trovi Perché praticamente gli scherzi saranno Allora io ho questo qua, neanche non mi ricordo, vabbè L'ho conosciuto, allora vi faccio uno scherzo Allora ora andiamo a partire, vi dico è un po' difficile da spiegare Tanto andiamo in partita e tutto raga Comunque vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la camionina per non partire nessun video Lasciate like E vabbè con questo iniziamo, andiamo a disattivare l'audio Oh Fra Fra Cavolo è Fra Ah ma l'ho disattivato L'ho attivato Mi ha mutato Non me ne vado Oh Fra no Vabbè comunque qua siamo qui con Aki Salutati Ciao Ho già due Ehm Oh ma perché non viene Fra Aspetta, aspetta un momento Eh no, 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 no Allora lo invito, Spongebob Sì sì lo faccio entrare Comunque raga iscrivetevi al suo canale su Twitch Non è su Twitch O quello che è Vabbè lo metti Mi senti Reggie? Oh Fra ecco ecco non ti sentivo Fra c'è una cosa che ti devo dire Questo molto di molto importante Tanto andiamo in coppia che è un po' difficile da dire Andiamo andiamo Fra non hai dire che sentivo quando hai detto che mi volevi fare uno scherzo No non è quello, fidati, non è uno scherzo Stavo parlando con un mio amico Guarda che, guarda che ti ho sentito che hai detto Fra fidati Vi dirò, vi dirò che è un po' difficile da spiegare Taci dai No, fidati, fra fidati Lo so da Frank Sto Oh ma è stato Qua c'è un mio amico In cui dovevo Ho fatto uno scherzo orrendo Allora A cui dovevo fare Stavo parlando con un altro mio amico Perché stiamo facendo un piccino party che ha appena andato in bagno O su Guarda che non so che sei in live Non te, Spongy, papà Chiado Vogliamo scommettere che sei in live Ma hai scoperto, raga Andiamo da qualcun altro Spalle Andiamo da Gab Oh, se sto scherzo fa schifo Comunque, raga, come volete Dalle cose scrivere Dalle commenti Andate su Discord E scrivete Vediamo il trattino, 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 basso Oh, no Comunque Oh, fra Oh, fra Però devi venire Chi è sto qua? Mamma mia Non farlo scherzo a lui Mamma Eh, no, no Lui è per fare Ma chi è sto qui? Ma buongiorno Oh, fra Ti devo dire una cosa in privato Devo dirti una cosa Ah, zitti, zitti A chi? A te, a te Ok Eh, però dobbiamo andare in gruppo privato Va bene, vai Eh, eh, lascia il gruppo poi ti dico, vieni Ti invito, vieni, eh Raga, c'era un tizio Ma che cosa stavo dicendo? Allora, eh Raga, ma tu Ok, ok, eccolo Eccolo qua Oh, deve venire, eh Deve venire perché Oh, ma chi c'è il live? C'è un altro spettatore Lo spettatore scrive l'icola Fra? Oh, fra Ti devo dire una cosa È difficile da spiegare Perché possiamo andare in partita No Eh, fra Vabbè, non mi concentro Se no Fra, te la devo dire Sprogrammela qua Vabbè, te la spiego No, no, fra Non mi concentro Fra, se no Fra, è importantissima Fra, veramente Sprogrammela qua No, vado Va bene Te la spiego Allora, praticamente Eh, no, quanti mi invitano Ha praticamente successo che Allora, un tizio Che non ti dico chi Mi ha detto che è un tuo compagno di classe E tu Fai il bull a scuola Allora Ma chi l'ha detto? Eh, non lo so Non te lo posso dire E intanto non è vero Poi Vero, è vero E chi ti ha detto La sentita? Eh, non lo so È uno L'ha scritto sul commento Nel Visto che Io ho un canale YouTube Però ora non ti dico il nome Me l'ha scritto sul commento Ma non andare a guardare Fra Ti è successo così Allora, ho già capito chi ha Ho già capito chi ha No Vabbè, chi se ne frega Allora, praticamente Mi ha detto che tu fai il bullo Allora Io Ho detto Non sono più il suo amico Perché io non accetto Le persone che fanno i bulli Quindi, frati Tolgo l'amicizia Vabbè No, ma frati Ha quittato Raga Raga Ha quittato Ha quittato Lui Va bene No, frati Va bene Ma cosa Ha quittato Fra, aspetta Sì, sì Che bella Simo Ha quittato Oh, comunque Simo Condividi la cosa con gli altri Adesso che ti aiuta Adesso che ti aiuta Ok Fra Fra Ma cosa fai RTL Ora non Ma cosa Spongivo Raga Ma cosa Ma cosa Ma cosa è successo No, vabbè Allora, sto qua nel team Sto qua nel team Io dico che fuori dal team Raga, però Devono venire Devono venire Cioè, raga Perché 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 Se no Non riesco a fare gli scherti Raga Devono venire Ah, sto scherzo Io non so Cosa è successo Fra, fra Andiamo Andiamo a fare la vittoria Andiamo a fare la vittoria Oh, raga Eh, ma non si sa se è la vittoria Sì, sì, sì È sleeping Vedi Sleeping E me lo hai detto Perché lei È tre gemelli Te l'ho detto che non è Te l'ho detto io Che Che non è solo la vittoria Cioè, che te hai giocato Penso solo con la vittoria No, anche sui fratello No Allora, io sono Ha detto invita Sì, invita Simone Ok, fra Va bene Ti invito Ti invito Eh Ma Ma non ti vedo Eh, fra Entra dentro Vabbè Prima facciamo Prima facciamo un altro scherzo Ok Poi ti invitiamo Sì, magari non così vicino al microfono Raga, ma come Perché è scappato Beh, di lì Spongebob Eh, ma Lui è quello che lo sapeva No, di lì che non è vero Va bene Non vito Fra, ma Ma lui mi ha detto Scommettiamo che sei live Ok, ok Reggi Ti aiuto a fargli lo scherzo A chi? A chi A chi vuoi Con la live Cioè Ok, ok Va bene Sei un genio Sei un genio L'ho appena fatto a uno Fra L'ho appena fatto a uno Sì, sì Tranquillo L'ho visto Allora Allora Oh, fra, fra Chi è Swapi TV? Ah no Attasciuppo Scusate Non lo so Aspetta Aspetta Ah, Swapi TV Ti dici Eh, chi è? Ce l'ho anche io Tra le amici Chi è? Ce l'ho anche io Tra le amici Ma chi è? È uno che è venuto a scuola con me Si chiama Gianmario Quello che è? No, si chiama Giacomo Ah, vabbè Le due spettatori Sì, sì Fra, ma cos'è? Sì, ma cos'è? Allora, allora Lo invito Invitalo anche te No, invita la Vittoria Invita la Vittoria Come fai a conoscerla La Vittoria? Eh, la vedo dalla live Fra te Ah, è vero, è vero Eh, Fra non viene Cioè, gli potrei dire Eh, visto che qua c'è Diciamo il suo ragazzo Allora Non è la Chi se ne frega Eh, ma riga niente No, no È il tuo ragazzo Allora Io la provo a invitare Invitare Allora, Dani Allora Fra, raga Ora vedrete blu nella live Perché Ah, no Cavolo Non c'è più Cavolo Eh, raga Ma scusate se fiscoi ma C'è uno spagnolo Dai, dai Vieni Ah, puoi invitare Tashup, Fra Invitalo Ma l'ha già invitato, Fra Oh, cachi Ah, chiamalo Dillica urgente di tutto Se puoi chiamarlo Io non ce l'ho Io non ce l'ho Io non ce l'ho Tashup Tashup Ah, chi Vabbè, ma Amma mia No, vabbè Vabbè Io non ci credo Però, eh Cioè Quello di prima Ti tolgo l'amicizia E se n'è andato Vabbè Oh, ma Ma gli altri Vengono Invito ognuno Invito Oh Ne invito una testa Invito anche la gente Aspetta Vai, vai Invita 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 Eh, no Però io invito gente Che tu non conosci Eh, Fra Allora, no Perché io devo Chi è Pini Sì Fra, fra, fra C'è un Hai un team Di lì che è uno del tuo team Invita uno Se hai un team Del tuo team Fra, ecco Eh, no Non c'è nessuno Del tuo team Allora Ah, ok Non c'è Del tuo team Io sto invitando uno Che sta giocando da solo Però non viene Oh, raga Ma non vengono sti qua Scusa Ma chi è il singolo Che senso ha Che non si unisca Invita la Vittoria Scusa Fra, sto invitando un casino È lavorato Ma sono tre gemelli Fra Non so se vengono Chi è Dragon Vediamo Oh, fra li sto invitando Da cavolo Eh Sì Oh, a chi le sta facendo Il disastro A casa mia Vabbè Oh, fra non viene nessuno Dio, ma che scherzo Che, mamma mia Raga, raga Se vedete blu È perché so Sto andando un attimo I namici Guarda se qualcuno è online Mamma mia Ah, fra, fra C'è uno C'è uno C'è uno che non lo conosco Ho me l'ho fatto conoscere Un mio amico Jacopo No, Jacopo sta giocando a GTA Dopo, raga Comunque faccia la live Di 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 Lo so Dopo si toglie Dopo si toglie Oh No, no Però Gli devo dire Raga Se hai letto un attimo Così Perché Di 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 Ok ok ma andate avanti Oddio aspetta bro Sennò tu mi aiuti a fare uno scherzo A uno dei miei amici Va bene va bene invita 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 Ok no fra mi sta invitando Fra mi sta invitando Mi sta invitando Ti invito va bene ti invito Ok veni su gruppo invitami Va bene ti invito Com'è che era lui E' lui E' lui che mi invitava Che c'è di cosa importa Ti dovrei parlare in privato Ma vabbè ti parlo qua Muni per favore Vai nell'altro chat Muni vai vai Per favore Ok è andato Sto invitando un mio amico Perché è tipo una specie di mio manager Fra è una specie Muni Guarda dai porti Lui può sentirmi Muni cambia chat Muni cambia chat Il coso è l'assurdo che sto muovendo lì Dov'è? Ah l'ho visto Vabbè io te lo dico comunque Muni dai maz Vabbè io lo muto Io lo muto Così non mi sente Scusa No no ma guarda che ti sente anche se non lo muti Vabbè ma mi sente di meno Allora praticamente fra Aspetta Raga spera un momento Oggi Scusate ma Allora Perché ero un attimo Devo dire una cosa a uno A mio padre Allora fra È successo che Come che ci Non mi ricordo Chi ci ha fatto conoscere Non mi ricordo Perché è successo Un po' Eh neanche io Vabbè Quello lì Ora me l'ha detto un mesetto fa Ecco Non voleva arrivare al tanto Mi ha detto che 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 sei antipatico Cioè che sei antipatico Ma chi? Eh non lo so chi Non lo so chi Però aspetta fra Che mi chiama mio padre Aspetta Muni maz Per favore muni Muni maz Multa veloce muni Muni vai all'altra sotto Scusate ma Ecco allora Praticamente Ehm Eh questo Questo dico Mi ha detto che Sei antipatico Di tutto E poi Mi ha pure detto Non so se è vero No vabbè No questo non te lo dico Troppo crudele Cosa? Dimmelo Perché ti gioco Dimmelo No non te lo dico Dimmelo Ok ha detto che Fai schifo Tutti e di più Mi ha detto Che con le ragazze Non vai d'accordo Di tutto e di più Come si chiama quello? Eh non me lo ricordo Mi ha detto almeno Non lo so E l'ha scritto in un commento E l'ha scritto in un commento E poi ha cancellato il commento Vabbè Allora fra Il punto è che Io ti cancello dagli amici Perché? Eh perché Io ci credo a lui Cioè Cioè È il mio amico Cioè è il mio amico Non mi ricordo neanche più chi sia Però Il punto è che È il mio amico Non mi ricordo neanche più chi sia Non mi ha E No il punto non è quello che Fra il Ma Raga Raga Ha quitato Vabbè Voglio sentire la live Mamma mia Raga Raga No vabbè No vabbè È uscito troppo bene È uscito troppo bene Fra Oh questo video raga Ho pochi iscritti Quindi vorrei almeno 15 like Aspetta Raga Aspetta un momento Scusate raga ma C'è Achille che tiene il volume della live altissimo Perché Non so perché ma così Allora E vuole vedere Vabbè Raga Fra lo abbassi Fra Fra ti ammazzo Fra ti senti Ma Vabbè Che siano fregato Poi la live Puri in ritardo Invito un altro Facciamo una coppia Sì intanto No C'è Vabbò Aspetta Oddio lui Adesso Adesso lo faccio io Lui c'entra Sì sì Lo faccio pure nelle partite In questo momento Sì ma il punto è che Ho il G Regi Regi Adesso sta entrando uno Forse entra uno Ok E io lo faccio io Lui e E tu Sei il mio manager Sì sì Dico Ok Ti asso qua Matteo Matteo No no Non tu Non tu Ma della parte Ci sei Ma della parte Fra ma parli o no Io sono il suo manager Allora ciao Ah abbandonato No fra Adesso lo facciamo a Edo Lo facciamo a Edo C'è Edo Sì sta venendo online No è Edo Quello che c'era in piscina oggi È lui Sì Edo Bonf Guarda Bonfanti No no vi dico che Non è più nel team Vi faccio quello Raga No no Fra dille che uno Ti ha scritto nei commenti Che lui È un bot E E fa il bull a scuola Va bene va bene va bene Dai fra fra Vediamo come la prende Vediamo come la prende Ma è dentro Io non lo vedo Eh no adesso sta entrando Sta entrando Ah ok ok Mi è arrivata la notifica Dalla switch Perché ora Io dovrei Farla live con lui Dovrei farla live Ecco vedo Ecco vedo Ecco vedo Ok 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 Acchi acchi Sono prontissimo Fra io non lo vedo Invitalo Eh lo sto rinvitando io Ah lo vedo lo vedo L'ho invitato Ti prego Un attimo Aspetta no no Fra non lo butto Raga comunque Perché è in live Eh voglio dire Solo che io sono Quello che controlla live E se Cioè non ho Ho messo il volume Più basso che posso Se sentite qualcosa Che vi dà fastidio Eh ditemelo Negli Commenti che lo abbasso Ok Ciao Dai Oh ma non viene Dai Ah perché si deve Shoppare la skin Perché ha vinto A golf con suo padre Eh si è vero Me l'ha detto anche oggi Oh Siamo sincronizzati Siamo sincronizzati Oddio Che figa Dai Edo Edo vieni Bella Joe Oh Oh raga raga Voi non potete vedere Ma Quello di femminito Stai zitto Non ti voglio più sentire Raga se vedete blu È perché Gli sto mandando un messaggio Raga Raga Gli l'ho mandato Mamma mia Oh ma Ok ecco Ecco Edo Ecco Edo Ecco Edo Ciao Edo Cioè lui Lui non so se lo conosci Dai È un amico Lo so chi è Ok Edo Allora Ok E praticamente Sai Oggi vi ho detto di farla Ma alla fine Ma alla fine Non la faccio Perché non c'è Non c'è tanta voglia Mi spiace però Non sono riuscito Per le 9 e mezza Vabbè Vabbè Ma ti sei preso pure quella skin Sì frataci È praticamente il punto Sì Ma dai non puoi ci sono Non puoi portare Con l'altro te Il punto è che Allora Qua c'è mio padre Che mi dà fastidio Muto Aspetta Fra Aspetta Fra Perché c'è un problema Con la play Fra aspetta Faccio Faccio Veloce Faccio Veloce Edo Aspettiamo Tanto andiamo in squad Metti pronto Perché Non c'ho voglia Mamma mia Oh ma comunque Edo 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 ci sei Boh Edo è morto Edo è morto Vabbè Aspettiamolo Mamma mia Eccomi Ah Edo Allora 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 Praticamente È successo Che Metti pronto Intanto Te lo devo dire In partita Secondo Mi metto Una schiena È molto importante Aspettate Io mi metto Una schiena Femminile Che ha nel busto Più piccolo Allora Perché C'è fra È veramente Tanto importante Perché Non so come dirtelo Ci sono Un po' Tre C'è un iscritto Che me lo Continua a dire 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 Ancora a dire C'è io fra Non ce la faccio più E chi è? Eh non lo so C'è scritto C'è Come profilo C'è scritto Nome sconosciuto L'avrà messo lui Per rosso solo Che è italiano Magari è un tuo amico C'è fra Sarà un tuo amico Cosa ti ha chiesto? Eh te lo dico Allora Mi ha detto Che Che tu C'è Mi ha detto Che a scuola Fai schifo Non ti vuole nessuna ragazza Fai il bullo Con le altre persone Fra Questo un po' Mi infastidisce Io lo spezzo Io lo spezzo Eh il punto scusa Ma non so Come si chiama C'è se no Te l'avrei detto Fra Io credo Scrivi Scrivi Digli in un video Che lo spezzo Di mandarmila Posso anche dirlo Ma il punto Non è quello C'è che io Sono molto deluso Fra io sono molto deluso Da te Perché non me lo aspettavo Come me lo C'è Non me lo aspettavo Da te Fra È molto strano C'è Vabbè Il punto È che Fra Questo qua Me l'ha detto Che Che tu fai il bullo Fra Io non voglio stare Con uno che fa il bullo Sì fra Me l'ha detto Mi ha pure avvertito Su sta cosa Mi ha pure avvertito Fra Mi ha pure avvertito Che tu Ma sai quanti ne hai almeno Di che cosa Ma io non faccio il bullo Non sono Vabbè Fra Allora Praticamente È difficile Tu sei nel mio team No Giusto Ma io non so Anzi Andiamo a Rago Sono il mio team Io No no Fra Tu sei Vedi RTN RTN Sì Fra Fra Però tu sei pure venuta nel team Però nel mio team Hai fatto il provino Fra me lo ricordo E comunque No Non ce l'ho mai fatto Sì Vabbè Chi se ne frega Però io non faccio il bullo Io non so Centro Questo qua Ti dice cosa a caso Sì Fra Mi ha pure detto Che sei nel mio team Cioè le prove Tutto Fra Fra Fammi parlare Me lo ricordo pure io Che tu sei nel mio team Dai che non spezzo Su Allora Il punto è che Ti tolgo dal team Cioè Fra Ti tolgo dal team Perché io non posso avere Come amico Un buglietto Regi 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 Vedi tu hai cominciato la partita Che ti devo dire una roba in privato Va bene Edo arriva un secondo Non venire perché Fra veramente non venire Perché Ah Fra Spesso Eh che cavolo Regi adesso gli dico Che sono stato io Ma che cosa Fra Siamo ancora Edo Stiamo ancora qua Edo Ma comunque Non so nemmeno di cosa Tu stai parlando Accidenti da me Allora no Fra non me Mi c'è la partita Perché questa cosa qui È molto urgente Dimmi come scherzo Sti scritto Quello spezzo Ed è una cosa Da rivelarti No no dopo Fra sta cosa qui Quello che è Se la dici dopo No 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 Ragazzi si scopre che uno di voi Facendo uno scherzo Ok Ti spesso Sì che batti in merda Che sai che spumi solo Botti in merda C'è un figlio Allora Allora ti dico Scusa Sarete che glielo posso dire No Fra Fra taci Il punto è che ti Non sei più mio amico Su Fornet Fra Finiamo sta partita Ti tolgo l'amicizia Fra va Basta Io non voglio stare Con i bulli Sì che sei fumato Dai Adesso te lo rivelo No Fra Dopo Dopo Non è uno scherzo Ok Ti mutiamo No 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 Fra va E non è uno scherzo Te lo giuro Fra basta Cioè io non voglio stare Con un bullo Io pensavo che Già quando ti ho visto Dede dai Questo qua è simpatico Invece no Mi vengono pure a liberare Che ti dici le balle Fra Io non l'accetto questo Fra scusa Ma il mio scritto Io mi fido di loro Fra Cioè veramente Lo so pure Simo Ci sono due persone da me Raga Mi fa veramente Innervosire sta roba E dovevi prendere la scheda Intanto Eh sì Cioè fra Veramente tanto Innervosire Cioè fra Capirei se tu Non me lo aspettavo Sì infatti Ma Comunque fra Allora io ti tolgo dagli amici dopo E poi Edo Edo Fra basta Taci Ed io Ti voglio comunque bene Tu rimarrai per sempre Mio amico Fra io non ti voglio bene proprio Non ti voglio proprio bene Perché tu Tu Mi hai mentito Cioè Tu non me l'hai detto Cioè Fra Io sono molto deluso da te È uno scherzo Non è uno scherzo Fra Io Io mi sono rotto degli scherzi Dopo un po' Cioè che palle Dopo un po' Uno si incazza Scusa Scusa per la parola Però Mi viene quando mi arrabbio Dai mi sta pure inventando un amico Faccio presto Cioè fra Ma cosa ridi te Basta Allora Fra È uno scherzo L'ha capito Ho visto Quando si moride Ho capito Vedete che c'è qualcosa Non è Fra basta Lui può ridere finché vuole Ma non è uno scherzo Che palle Uno Dopo un po' Si incavola degli scherzi Lo devi Simo Se me lo dici Di da un biscotto Si incavola Si incavola Seriamente Simo Un biscotto Non mi capisco Che mi devi dare i biscotti No lo so Non lo so Seriamente Simo Se me lo dici Di da un biscotto Bra Ma anche se fosse uno scherzo Poi non lo è Mi prendi Io spiega Comunque Regi Eh Edo Dai Ce lo dico Basta Anche se Regi non vuole L'ho scritto Io Il commento Ma vai Io ti spezzo Io gli spezzo Va bene Fra ma non glielo dovevi dire Ragazzi io gli spezzo Mi faccio diventare degli spezzatini ambulanti E voi No 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 Ce n'è uno che gioca da season 3 Sono morto Vabbè Fra è uno scherzo Chi se ne frega Devi andarti a cagare Ciao Fra Mi stai invitando un amico Devo andare Fra Fra faccio veloce E sono in live Fra sono in live Dopo non lo dobbiamo fare Come sei in live Siamo in live Salute l'inspect Vado Fra vado Vado da mio amico Che Anzi no lo invito Che gli faccia lo stesso scherzo Va bene Ok Lo diciamo tutti Raga però tornate in lobby Sì tornate in lobby Raga però non dovete dirglielo Le dovevo Le dico io Va bene Perché sennò Dile che sono stato io A un certo punto Io sì perché sono stato io Ok Ah Fra raga Mi aveva risposto Eh aspetta Allora Lo rinvito Lo rinvito Dai però devi venire Raga mi unisco E poi vi invito Ok però Dile che sono stato io Quando glielo rivelo No no Sì quando glielo rivelo Però non è vero Raga Raga Oh munito Oh fra Fra Raga Mi sentite Oh rega Oh rega Oh munir Mi senti No non mi sento Comunque fra Vabbè ti volevo dire una cosa Ma vabbè ciao Raga Lui Oh raga raga Ma lui mi spelle a me A me mi spelle Ma sì ora facciamo Fra ma lui non parla Me l'ho dimenticato E guarda cosa che c'è C'è lui Fra raga non ho più amici Quanto a me le spelle No no fra Grazie vuoi fare una partita Io arrivo E' il lobby Ok ok Fra Ora invito qualcuno A mio amico Sì va bene Io arrivo No raga E' il tuo spettatore Ok ok Raga scrivete nei commenti Chi è l'altro spettatore Seggio Ok Eh ma Oh raga raga me ne vado un momento Poi rivengo Raga E' Munir Raggi da Ma Munir parla Cos'è Ah ma l'ho mutato L'ho mutato Ma sei tu che ci prendi per il culo Raga Lo sa Raga è un coglione lo sa Raga Mi stai cavolando nero Mamma mia Raga raga Poi non faccio solo sto scherzo Ma Ma faccio anche un po' di partite con gli altri Perché Raga aspetta Oh ma abbassi quella cavolo di Aki La abbassi Mutati Muta Muta O chiudi la pia C'è Achille che mi sta rompendo Oh basta Basta Ora gli dico basta Perché E hai detto lo scherzo Mamma mia Oh Edo ma perché hai la skin di bot Bot sarei puttura Eh no veramente mi stavo definendo te Quindi sarei te il bot Comunque Eeeh Calma con le parole No calma con le parole Cavolo Ok 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 Lui è il team giusto No no però Ecco raga raga Oh traspect Ciao bella Fede Bella Fede Fede dici che scherzo fare a una persona A Jacopo Fede Fede scrivi nei commenti che scherzo fare a Jacopo Mamma mia O qualcun altro Chi se ne frega Mamma mia No ma siamo due aspetto Si chi se ne frega Ora avrà abbandonato Mamma mia Oh ma non cantare Magica Bula Da munire Oh raga vi vengo Oh è sempre avanti Oh ragi Ragi Cosa vuoi muonire Oh ragi vi vengo Oh sappiamo che sei in live Eh? E godo che hai solo tre spettatori E godo Fai me ne so niente perché mi sono offeso Oh mamma mia Eh beh raga Ora andiamo a fare un po' di partita normale Ragazzi Ma chi è il mirror se c'è Ecco mi è pure caduto l'altro Ma chi è mirror se c'è Ah ma Oh È un uglione quello là Fra ma è live Mi stavo guardando una cosa Me la stavo guardando Non dirlo Ah mamma mia No com'è che si chiama Munir mi sembra Non mi ricordo il nome Munir fai cagare Ma non so se si è live Calmati Ma sono io quello che hai live Allora chi se ne frega Ma vengono a dire Oh ma perché non mi invitano Non mi invito Vengono a dire Oh raga non mi invitano Oh no Oh non mi invitano più Non vuole nessuno È razzismo No che è razzismo Ma che è razzismo È contro è contro È razzismo È regicatalismo È regicatalismo Ma che cos'è Raga Non mi invitano più Oh no Ma che infami Odio aspect Com'è che si chiama quello là Non lo so Fai schifo Basta poverino Basta poverino Ma chi ha detto che fa Che sei un Chi se ne frega Allora Oh ma Edo mi inviti Oh Gli sussurro Aspetta Ok Fra Fra Invitami Fra Invitami Aspetta Chi sta guardando la drive Scriva Per favore Basta fra Magari è fede Oh fra Raga Però deve venire Perché mi sto rompendo Edo No Raga stanno facendo Romassiccio Che se ne vadano A quel paese Che Cosa gli diciamo Fra no Fra Io faccio così Oh Calma Ti Raga Andiamo in partita Cioè Se non viene nessuno Andiamo in partita Che palla Davide Davide Cioè fra Allora Dobbiamo trovare qualcuno Dobbiamo trovare Fra Dobbiamo trovare qualcuno Obbligato Non mi fai schifo Passa Fra Oh Oh raga Non iscrivetevi al canale di Achille Assolutamente No 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 Io ora mi ricordo il mio nome Raga Non andate Non andate Allora Vabbè raga Intanto andiamo in singolo Scrivetevi nei commenti Cosa Cosa ridi Fede Ci vede Pensavo che ricordo Fede Ci vedi Ah Fede Raga Raga Ma chi è Raga Raga Ma chi è Raga Io Appena abbandonato Appena No raga Però io Assente Nell'angelo Gabbo 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 Però Gabbo Vedi un po' Che non ci gioco Sì raga Se vi ricordate Mi hanno fatto un po' Di like Oh 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 no Gabbo Dai raga Però che palle Raga vabbè Allora Oh Fra La smetti Di mettere Vabbè raga Andiamo in singolo Amma mia Allora 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 Ho preso di bene Con gli scherzi Ma il punto è che Non mi ero d'accordo Che non avevo Amici Che io Non avevo Amici Raga Non me ne ero Accorto Andiamo in singolo Raga Facciamo un po' Di partite Comunque E Achi achi Domani Facciamo la live Di minecraft Domani mattina Bene Raga Domani mattina Live di minecraft A ora 9 Cos'è 9 9 Raga Andiamo a fare una partita Oh Se facciamo Vittoria reale Se facciamo Vittoria reale Cosa facciamo Cos'è un cazzo Allora Andiamo Andiamo Traspect Amma mia Ma cosa stai scrivendo Coglione Oh raga Scusate Se non parlo Ma mi vado Incavolare Con Achille Non ho proprio Sclerato Ma Chi se ne prega Oddio Stavo per cadere Ehm Comunque raga Forse andrò Neanche in live Su Su discord Se sapete cosa sia Forse Eh viene Viene tra poco Il tuo commento Coglione Oh mi sta invitando Sto munir Allora Allora vediamo cosa fa Io mi unisco Io mi unisco Raga Vediamo Ok Oh mi sta invitando Sto munir Oh fra Cosa cazzo Eh scusa Scusa Però Cosa vuoi Cosa vuoi Dalla mia vita Fra Oddio che te ne vai Cosa Cosa Fra Ma 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 tolto Perché No 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 è malato Ma cosa gli ho fatto Cosa gli ho fatto No vabbè raga La gente di oggi Cioè la gente di oggi È un conno Perché anche io sono Ragazzino Però chissà di ferra Andiamo al futuro Malato Cacca Oh fra Basta urlare al microfono Se poi me lo spacchi Cioè no Il microfono Il microfono Non si può spaccare Se mi spacchi le cuffie Perché non fai Smetti Eh ci goi Ma perché munir Cioè mi amico Oh fra Ragua Ad un attimo Da munir Oh fra La smetti Così Sì Ah 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 Mille volte Basta Ah 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 ah... Ah 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 No vabbè Ma dove cavolo sono questi cesti mamma mia ok ecco 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 raga dobbiamo farvi torna reale anche se è un po' difficile farvi torna reale con una pistolina una mitra cos'è un po' no no non è poco tanto difficile non è tanto difficile però se basta ma cosa mi piacerà fra giuro che se non mi piace quel commento ti tolgo dagli amici di fornite lo giuro eh ok ti tolgo dagli amici ah mi piacerà ma non mi piacerà interessante come cosa ma basta sto munir no no fra no non li parli un cazzo fra se li parli mi rovini tutto fra no non li parlo oh ma perché eh fra mi non mi non mi fa unire in vienità in vienità non mi fa unire che palle usciti usciti oh fra la devi oh mi stai oh mi stai fra la smetti di rompere fra basta oh ah che la devi smettere eh c'è un munir ti sei unito oh eh ma perché mi fa mi inviti perché volevo chiederti scusa perché sì sì perché vuoi chiedere scusa che cosa sta ridendo ma perché sta ridendo cioè perché stavi ridendo prima te stavi ridendo perché stai cercando di ridere il mare vabbè vuoi fare un po' di partite dopo ma in vittorio ma ciao e va vabbè no non vi può più mille cusce ok ok non parla non so perché non vi vantare più buonire buonire ma te oh no raga devo farvi trarrello assolutamente qua a dar video si sta no sei mutato vabbè ovvio perché ho sentito video no sono mamma ma cosa è successo fra perché ti sei mutato perché mi sa che non sto parlando ok sto guardando mi sto dicendo di andare a dormire forse vado a dormire ma vabbè chi se ne tre ne possiamo restare non possiamo restare io posso stare fin quanto mi pare oggi fino alle 3 a 4 raga faccio la live ah mi faccio un'altra la società forse io resto a vedere la tua live ti aspetto alle 3 si perché tanto io tengo il telefono in camere ok alle 3 oh anche la mia cosa ha che non ho fatto bevi la mia coca che palle ha bevi la tua che palle allora i materiali sono mi sapore bene raga ma ma come si fa tu sai munir sai come si fa fare schermo condiviso ah mi sta invitando un mio amico oh mi sparavo oh ho capito che faccio schifo ma non così tanto invito dei miei amici andiamo a fare un po' di crea se volete ma fra devi andare ok 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 va bene non possiamo restare svegli quando vogliamo mettete pronto ah no adesso ritorno alla lobby ritorno alla lobby non fate niente ci sono già i lobby o a chi devi andare giù per vedere come si fa e ma fai un balletto se non ti vanno più le cuffie o ma non mi ricordo più come si chiama oggi oggi ma addio vabbè scusa ma non mi ricordo più come si chiama senza affesa ma non mi ricordo mettiamo un po' di squadra e iniziamo andiamo 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 tutti con un balletto diverso però ce l'ho anch'io la galaxy se vuoi la metto no no dai mi tengo questa che è più bella cioè non più bella però io sono già stanco come faccio a starvegli fino alle 3 ma dov'è la tua magari la tua io non la voglio la tua ah accendo il frigo poi io mi chiedo su una cosa perché nella galaxy hanno fatto tutto spaziale è perché la galaxy è spaziale si lo so lo so però le scarpe le hanno messe così è spaziale le hanno messe non potevano anche mettere cioè un so balletto no no ci sta bene spaziale no non tanto cioè magari è un po' diversa però ci sta ecco comunque domani mattina faccio la live di minecraft forse vabbè no 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 vengono c'ho minecraft cioè ma eh sì 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 ma non so se ce l'ho online devo pagare di nonco 8 euro li ho finiti non posso più caricarli cioè li potrei caricare ma vabbè bro vuoi vedere quanto è dito veloce ma quanto è bella la schermata di di caricamento di deathpool a me piace un casino bro vuoi vedere quanto è dito veloce quando ci sei vieni dove sei dove sei vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua bra ma io gioco da meno tempo di te e comunque a me non vanno bene i tasti della cosa del joystick si si te lo giochi scusa non giochi da nintendo vabbè ma a me fa schifo la mappa di quest'anno raga ma a voi piace la mappa di quest'anno c'è ti piace te moni a me cosa la mappa di quest'anno a me fa schifo la mappa di quest'anno ma raga ma voi sapete dove sono gli anelli fluttuanti qui io c'ho un tutto io l'ho già presi in questo account c'è uno screenshot nel mio telefono che mi fa vedere dove sono tutti gli anelli tra potresti guardarlo se vuoi una pistolina che merda che ho trovato la pistolina dovevo trovare raga le tre chest me le potete lasciare a me laggo come faccio a laggare raga come faccio a laggare su sta play c'ho c'ho il coso c'ho il filo attaccato è la prima volta che laggo in questa play perché è la prima volta perché sono da mio padre no no raga se crescio qui è stranissimo no raga non voglio casciare di qua no raga non vuoi solitamente crescere ora guarda se non è collegato ma io credo di sì non mi ha trovato il nostro screenshot prendilo vediamo se non è collegato a chi da un ricordo qua a kille mi sta rompendo i coglioni sì aspetta che venga ok ora non mi dovrebbe più c'è ora no mi lagga pure ancora o ma è stranissimo che mi lagga cioè io ho trovato una log epico che mi stai prendendo mi stai pigliando per il conno no ok ce l'hai ce l'hai brava ma tu hai solo culo dai lo sanno tutti o ma cosa ma come si chiama oggi mando quello la e manuoli aperti sopra la mamma che non dire il cognome per favore perché siamo in live per privacy io sento una cesta per lì va pesce bello e mamma come dov'è dov'è che molto fra c'è è molto più a foresta ma si vicino ora un po sai dove c'è vicino a casa ok ok ho capito che ho capito che ti sei suicidato ma allora ho capito volevo prendere l'anello oh fra come l'anello c'è l'anello e mamma c'è un all'entro un anello si lo vede nell'albero fra è nell'albero lo vedo io non lo vedo e ma tieni ok ok io lo vedo vieni seguimi ok solo che non è non ho tanto materiale vieni ah va bene intanto bilde no no fra fra che ci sono ho capito perché perché è un po di mazzo c'è lio e c'è lio e c'è lio e c'è lio si il punto che non riesco a salire fra mi puoi mettere qualcosa ecco grazie a chi taci ora ma sta lei farà schifo perché c'è chi lei che parla continuamente ok dopo a chi facciamo gaga dopo facciamo schermo condiviso io e a chi proviamo anzi dopo devo c'è la di costito schermo condiviso con altri dopo la cambio domani mattina facciamo quella di cosa devo tossire ma io ho 37 70 e basta io ho 116 60 30 io ho trovato un anello e non ne trovo più magari sono tutti sopra gli alberi si sono tutti sopra gli alberi non ha visto un altro qua sopra è qua ecco qua tu seguimi fra dammi tutto il materiale che provo c'è no tutto no dammelo un po che tre faccio dammi un po di legno ok ok tutto questo va bene questo va bene vediamo allora qua tu seguimi qua 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 aspetta salta vieni 3 2 1 via salta salta ok 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 vediamo se c'è un altro vediamo per ora non vedo ma per ora ma noi ci abbiamo due account quindi secondo faccio sono non ci gioco tanto da quell'account ho comprato una skin da 5 euro una skin da 5 euro ma fra non esistono si quella skin gialla si ma hai speso comunque 10 euro perché non si possono si era a dare da 5 euro ti dicevo dare quali era un pacchetto si si un pacchetto poi giacca gialla nera cos'è giacca gialla nera giacca gialla è la skin è l'ultima skin uscita bufrai non l'ho mai visto e mamma perché vai da store vicino non l'ho mai vista quella che ti ha regalato l'epic ha regalato una skin è una nera mi sembra si l'ha regalato tutti la che sia in casa si no ti ricordi se non è che da tanto tanto che non ci giochi e è un altro regalo solo più di un settimo fa la c'era se i fan e mi sei ci sono pure nemici da cosa si è vero raga che l'hanno regalato tutti la skin non l'ho regalato tutti si la skin quella che ha regalato l'epic ah quello stile eh no la skin che ha regalato l'epic quella nera no è lo stile di un'altra skin del pacchetto è lo stile no cioè è una skin sarà è una skin non so no cioè no ha regalato un balletto l'epic un ballo no prima ancora ha regalato una skin dopo ti faccio vedere nell'armadietto l'ha regalata in un aggiornamento mi sembra ma io ho ma tu c'hai tutto il set di questa skin no me lo voglio prendere però tanto esce tante volte sto skin quindi no c'è ora non ho fatto buttare giù se lo viene di tante volte altre e la voce poi no ma non la cosa nella tua live che ti stavo aspettando e ho visto che i tuoi amici erano andati fare una ora massiccio vero sì c'è ora massiccio io ho visto ho visto proprio nel tuo live che erano andati a fare ora come se c'è sì sì lo so ma poi mi hanno l'invitato qua qua si vede si vede una cosa dell'agenzia cosa è l'autorità è l'agenzia un po' della vecchia agenzia ma portaci lì proviene da noi eh sì prendo un po' faccio un po' di materiale aspetta mia qui si vede un pezzo dell'agenzia della vecchia dove? come? quando? fra fra camera ti andiamo andiamo aspetta raga aspettatemi aspettatemi il ritorno di vita e ma portaci dov'è vendetta vai ecco vieni e ma portaci dov'è dove vieni vieni bro e ma portaci dov'è il pezzo e ma portaci dov'è vai andiamo dov'è eh dove stiamo andando ecco qua c'è di qua dentro ma dov'è qua prendi prendi il bagno eh fra l'ho capito che devo prendere il bagno c'è qualcuno con l'atomica sembra vero sono mentre anche loro cosa vuoi raga dove dobbiamo andare per vedere sto pezzo però forse non si ricorda forse non si ricorda dove dove sia raga c'è gente raga c'è gente vieni vieni bro ci sono due persone raga dietro di noi c'è gente raga dietro di noi non ha messo in sopra non facciamo troppo il mare si no raga si stanno avvicinando raga copritemi raga ci stanno avvicinando vieni da noi non so più dove sei ok ok si qua raga si stanno avvicinando no no sono sempre sopra noi restiamo ad andare ma dove sei andata è su si vede il nome cavolo ho fratto però sei lontanato da noi c'è gente stai faltando lo vedo fra che fa tra la seita è missato è tutto per te che miss vabbè io mi occupo di sto qua c'è gente da me vabbè io ci muoio dove ho venuto voi sì ci arrivo da voi ci arrivo ci arrivo bravieni tanto quelli lì muoiono di safe spera o la tommy can c'è raga la tommy can io la voglio andare a prendere raga la tommy can avete dei mediti sì sì io ne ho due ok raga con il motoscafo attenti raga eh sono la allora 20 ho fatto ma non dici 22 non ho fatto un altro 215 ho terrato uno io non ho ammazzato un altro invece che ci stavo per le spalle da dietro 86 un altro ci sono i predoni ripeto c'è ripeto un corno oh ci cecchino no ha pure i predoni coglione ok ho ammazzato due years due gamer che cazzo di nome ha dato adesso sono messo o mi hanno cecchino raga mi hanno cecchino sì no è quello che è c'è tra gli ardoni su bravi e gente da me fra tu quello lì verso verso fattoria l'atomica mia tra l'atomica mia lasciamela fra lascia mila tommy e mandagli quello che vuole tra lascia mila tommy una cosa ti chiedo fra una non te le chiedo tanto un atomica dai che palle cioè che palle fra ci sto chiedendo ucciso se l'avete visto ho fatto una figura di grazie grazie non ho un pump raga raga ho quindici di vita raga 9 ho 7 5 3 no cazzo boia e ma e ma cura lui cura lui sei tranquillo cura lui e ma boia fra ma oh ma ci riesce a fare una cosa cazzo fra e ma no lui mi sta incazzando solo perché gli faccio uno scherzo fa così no che palle fra e ma puoi prenderlo e ma dai e ma dai che palla c'è il rampino restami fra cazzo restami restami no io lo io lo io lo tolgo dal gruppo basta cioè raga ho capito che mi prende la scheda però devo andare a farsi fottere se mi senti cioè che palle fra cioè ti prendi prima di tutto ti prendi tutte le aree poi c'è che palle non fai c'è 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 no non parla perché c'è le cuffie andate cioè che palla non le spello non le spello no ho capito io non farei la stessa cosa mi terei le armi mitiche va bene già che se non le armi mitiche non è che mi non è che mi vada troppo bene cioè una cosa non la fa però va bene poi ti chiedo gentilmente vami a restare che ho più vita di lui vami a restare così ce la faccio io non perdo il mio look poi te se muori cioè che palle avevo il look della madonna cioè fra che palle hai solo delle bende io avevo un po' delle cilin uno però si incazza cioè raga scusate per se mi sto sfogando tu vai al pc raga raga non me ne vado con un mio amico ciao ma però io no vai ecco mi fa andare voglio unirmi accetto no sto cazzo oh raga raga sono in live ancora perché ora la finisco praticamente c'è uno che gli ho chiesto si faceva raga ma c'è a schermo condiviso vai bisogna spegnerla play no ok raga aspetta prima di accendere a te fra non sono fra muoviti ok c'è ok sono in live cosa e si spegna condiviso c'è praticamente c'era uno uno raga gli ho detto è lo stesso account c'è è lo stesso account di Fortnite si perché si c'era uno eh non c'ho di un altro forno c'è solo qua forno regi c'era uno aspetta non fa niente anche non fa niente c'era uno che praticamente ho detto eravano tutti non morti ero morto da safe fra non far niente fra sta fermo e gli ho detto e o vai a restare perché dopo lì per prendere la scheda e così io dopo più fra basta è per giocare con te e gli ho detto fra non voglio cedere mi si interrompe la live ora aspetta e praticamente gli ho detto fra vai a restare un momento perché sto facendo una cosa e lui dopo sai cosa cioè non può parlare allora è nato a restare l'altro che poi gli è scaduta la scheda a me mi ha preso la scheda e poi è morto e poi aveva tutte e due le armi mitiche io gli ho chiesto me la puoi dare perché ti ho aiutato a ucciderlo non mi ha fatto niente non mi ha dato niente raga guardami al pompa aspetta raga comunque non l'hai detto raga comunque la live no vabbè ti invito ti invito fra monir ti invito chi se ne frega ti invito vabbè raga comunque la live finisce qui vi ricordo di iscrivervi lo so vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la camion per non perdere nessun video lasciate like e vabbè ora ora lascio la live e la ricomincio un'altra con schermo condiviso raga se vi da fastidio scrivete nei commenti domani mattina dopo ve lo ricorderò c'è la live di minecraft se vedete blu quando siamo in live raga vuol dire che sono in privato e non vi preoccupate non è niente nel vostro computer comunque ciao ciao